san giovanni primo originario della toscana visse a roma dove divenne diacono e in seguito nel 523 divenne il primo papa col nome di giovanni papa per 30 mesi diede grande impulso alla vita cristiana restaurando chiese promuovendo il canto sacro e la riforma liturgica introdusse l'era cristiana iniziando il computo degli anni non più dalla fondazione di roma ma dalla nascita di cristo visse in un'epoca di pace sotto rete odorico fino a quando l'imperatore d'oriente giustino emanò un editto contro gli ariani ritenuto colpevole di non aver ottenuto la revoca dell'editto che imponeva agli ariani la conversione al cattolicesimo fu imprigionato morì in carcere a ravenna nel maggio del 526 dopo quattro anni la sua salma fu portata a roma nella basilica vaticana